ci siamo no link di non me lo fa mettere siamo live siamo live ragazzi fateci e iscriveteci se ci vedete e ci sentite ciao a tutti buongiorno nel frattempo Fede manda pure l'invito su messenger a chi ha richiesto di ricevere la notifica mi assento un attimo e arrivo forse mi state ancora vedendo si si ti vediamo non ti preoccupare intanto Max intratieni io ragazzi ti intratengo vi racconterei una barzelletta ma non sono in grado di ripeterla perché è un po' in dialetto è difficile vedo che abbiamo 14 persone che si sono già collegate 2 like 21 persone state arrivando siete dei grandi perfetto allora Lara ci saluta perfetto vediamo si sente perfetto Lara tu Fede procedi a mandare quel famoso link arrivo tu intanto racconta la barzelletta lo stanno aspettando no e invece parlo di cosa parleremo oggi oggi parleremo di Facebook e di come sfruttarlo per le nostre attività per far crescere il nostro business e vedremo chiederemo a Federico anche quali sono i principali errori che le aziende commettono e quindi come cercare di evitarli anzi sfruttare esattamente l'opposto al nostro vantaggio grande Luca ciao Luca Conti Alessandro ciao grande Lu Silvio ciao perfetto siamo in 45 aspettiamo ancora qualche minuto che arrivino tutti io ho quasi fatto nel frattempo manda l'invito mi è arrivato l'invito anche a me disabilito il telefono che se no mi disturba non voglio essere disturbato mentre faccio le live Elisa grande Elisa ciao Arianna ciao ragazzi su su diteci che ci sentite grande Raffaele anche tu sei un grande sì ciao Daniel Daniel anche sempre presente Alina ciao Alina Alina è la titolare della Capra Ignorante un ristorante che ha un nome una garanzia un ristopub bellissimo allora ragazzi pazientate un paio di minuti che arrivano tutti ciao Silvia Vernelli abbiamo anche la Silvia ciao Silvia grande Verniz ciao Roberto perfetto vi sentite solo o vedete anche questa nel senso scusate vedete anche bene o si vede male visto che ieri avevamo avuto l'altro ieri due giorni fa ci sono perfetto messaggio mandato perfetto adesso arriveranno anche gli ultimi allora grande Simone abbiamo la tua domanda Simone dopo ti rispondiamo se non ricordo male abbiamo la domanda abbiamo due domande di Simone ma grande ma tu vedi anche ciao ciao Roberta ciao Elisa ciao Simone perfetto un massimo gelpi grande ok perfetto ciao Marco allora ragazzi non la racconti questa bartelletta no non sono in grado la teniamo per la fine così rimangono fino alla fine la teniamo per la fine dovrei mettere lo screencast ma in dialetto forse non la capiscono tutti il dialetto romagnolo ciao Umberto ciao Francesco oggi metto anche Leonardo Donatella come studente grande Alessandro ciao Giovanni ciao allora domanda importante anzi richiesta importantissima ma innocua un nuovo termine che mi piace innocua adesso faccio le domande innocue cliccate su facebook condividi e condividete così ci aiutate un po' ad aumentare la nostra bella ris ciao Dorella condividete a chi può interessare questa live esatto Ivan ciao di niente Ivan figurate un piacere dare consigli allora Fede io direi che iniziamo Vassislava anche tu ci sei ciao se non sbaglio abbiamo anche una tua domanda poi rispondiamo a tutti allora io partirei qui dai i ritradatari arrivano ma abbiano male dovrebbero riuscire ad agganciarsi a tutto allora Federico io ti passo subito la palla e mi sono appuntato una domanda secca ma molto impegnativa per te allora partiamo subito aggressivi vai come partiamo subito aggressivi sì sì subito aggressivi già abbiamo perso quattro minuti e mezzo per aspettare tutto e partiamo quali sono i tre elementi più importanti i tre errori più pericolosi quindi più o meno sono le stesse cose di chi si approccia nell'utilizzo dei social network e in particolare di Facebook allora 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 ce ne sono tanti in realtà tanti tanti errori che vedo commettere gli errori principali se dovessi sceglierne appunto tre partirei ancora prima prima di atterrare su su questa piattaforma perché molti pensano che utilizzare Facebook al meglio per utilizzare Facebook al meglio basti andare sulla piattaforma e saper creare dei contenuti efficaci in realtà deriva tutto molto da prima quindi la primissima cosa secondo me prima ancora di approcciare il mondo Facebook è sapere chi sei e a chi stai parlando lo sto ripetendo molto molto spesso quindi l'errore è chiaramente non sapere chi sei e non sapere a chi stai parlando e ti spiego anche velocemente che cosa intendo perché chiaramente una volta che tu hai ben identificato quali sono i tuoi elementi differenzianti qual è il tuo posizionamento nel mercato e perché le persone dovrebbero comprare da te piuttosto che da un'altra persona allora a quel punto sei già un pezzo avanti sei già più avvantaggiato ma soprattutto una volta che hai identificato chi sei tu per il mercato è determinante sapere chi è il tuo target per poter effettuare poi una comunicazione su misura perché se parliamo a tutti come si dice è com'è parlare a nessuno quindi questi sono i primi due errori che racchiudi in un errore il primo errore e poi praticamente se lo vogliamo racchiudere in maniera ancora più precisa è proprio mancanza di strategia a livello macro questo cioè nel senso io mi metto nel mercato a caso come purtroppo succede senza avere nessuna veramente cognizione di causa io apro i miei serrandi aspetto che le persone arrivino e nella mia comunicazione dico sono aperto venite da me abbastanza inefficace sappiamo esatto è proprio il paragone è perfetto è come lasciare la serranda e aspettare che la gente che la gente entri molti pensano che facebook sia la pacchetta magica in realtà facebook ha una potenza incredibile si possono ottenere dei risultati incredibili però a monte comunque sempre ci vuole una strategia ci vuole un obiettivo bisogna sapere perfettamente qual è il posizionamento e qual è il nostro target sicuramente e quindi poi il secondo errore come dicevamo prima è utilizzare facebook come come una vetrina come dico sempre mettere solamente su facebook i post dove scriviamo compra 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 è inutile tra l'altro un piccolo aneddoto avevo fatto questa domanda forse due anni fa ormai ad una ragazza che ha lavorato in google responsabile marketing o comunque nel dipartimento marketing e in Heineken chiedendole per cercare confermi quello che pensavo se non fosse sbagliato utilizzare i facebook e i social in generale solo per dire compro il mio prodotto compro il mio prodotto compro il mio prodotto e lei mi rispose con una frase che mi rimase molto impresso e mi disse arriverà un momento in cui le persone avranno tantissima sete ma piuttosto che bere dalla tua bottiglia moriranno di sete che è un po' come dire gli avrai rotto talmente tanto le scatole con il tuo compra 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 che piuttosto che comprare da te non compreranno è un esempio secondo me perfetto perché facebook va utilizzato a 360 gradi ok soprattutto più andiamo avanti e più ci vorrà una strategia veramente molto molto definita senza fare solamente i post di vendita anzi poi magari dopo se ti va max parliamo anche di quali post pubblicare e perché ok fin qui è tutto chiaro chiediamo agli iscritti approfitto per salutare anche stefano grande massimiliano roberto andrea e milena c'è anche massimiliano migliorini che dice max è agro spewer no fin qui dai penso sia tutto chiaro aspettiamo un paio di conferme da parte delle persone comunque sì il punto è che c'era un esempio che mi è sempre piaciuto si utilizza bene anche su facebook ma il concetto poi si applica nel marketing in generale ovvero nel momento che noi ci approcciamo a un cliente e lo scopo ovviamente finale è quello di vendere poi dopo qui ci sono visione nel senso che il mio punto di vista è noi dobbiamo vendere un cliente per migliorare la sua situazione che sia migliorare la sua vita migliorare i suoi rapporti sociali il suo rapporto con se stesso se ad esempio siamo di personal trainer però il succo è che se una persona non ci conosce difficilmente comprerà da noi e il paragone era andare da una ragazza e chiedergli nel caso di un uomo mi vuoi sposare è difficilissimo che ti dica di sì se prima non hai instaurato una relazione quindi utilizzare facebook chiedendo alle persone a caso mi vuoi sposare diventa molto difficile ci sta rispondendo che si sente ed è tutto chiaro finora perfetto fidetti che posso la palla di nuovo eravamo al terzo errore il terzo errore se dovessi scegliere uno poi potremmo stare a parlare ora degli errori che non vanno commessi però ancora prima della parte tecnica perché poi la parte tecnica si apre un mondo e sicuramente molti pensano che facebook sia gratis in realtà la copertura su facebook è sempre più bassa la reach organica come si dice in gergo tecnico è sempre più bassa e quindi è molto importante andare come direbbe Enrico Marchetto a conquistare le immense praterie che abbiamo da conquistare perché da una parte è vero che la reach organica è sicuramente bassa bassa e in Italia è un po' meglio rispetto all'America l'America praticamente è quasi ormai nulla però dall'altra parte abbiamo rispetto agli altri paesi europei e anche soprattutto agli USA abbiamo ancora un CPM molto molto competitivo CPM significa costo per mille impressioni quindi abbiamo la possibilità di guadagnare spazio e visibilità all'interno della piattaforma ancora a costi accessibili e quindi sicuramente per fare business su Facebook è necessario investire senza ombra di dubbio e ci sono ancora tanti imprenditori soprattutto piccoli professionisti che si approcciano a internet che pensano di poter utilizzare Facebook e ottenere risultati in maniera completamente gratuita il problema è che se non decidiamo di investire soldi in pubblicità per raggiungere potenziali clienti Facebook è uno strumento praticamente inutile o quasi sì poi chiaramente ci sono come sempre le eccezioni ci sono le pagine che vanno virali ci sono le eccezioni che confermano la regola però in linea generale soprattutto per le PMI non sfruttare la potenza dell'advertising di Facebook in questo momento è quasi un delitto soprattutto se si ha la possibilità di farlo chiaramente però nel momento in cui fai business un budget che allochi al marketing secondo me deve esserci altra domanda abbiamo parlato prima di come sia importante avere una strategia perché molte persone aprono la propria pagina Facebook mettono le foto dei propri prodotti del proprio negozio di quello che fanno e ad esempio fanno le famose campagne like perché dicono che la loro pagina se non ha i like non funziona ora esprimi il tuo parere riguardo questa è questa è tremenda campagne like sono il male sicuramente è normale che tutti vogliono avere più like o meglio tantissimi imprenditori vengono da me mi dicono Fede facciamo la campagna like voglio aumentare i like come si fa ad aumentare i like eccetera eccetera lo so che sicuramente può dare una mano non dico che sia totalmente inutile avere una pagina con tanti like anzi a livello di riprova sociale sicuramente può aiutare però adesso non ho sotto la statistica ma proprio Enrico Marchetto qualche settimana fa mostrava una statistica dove le persone che interagiscono con la tua le tue inserzioni non vanno quasi mai a vedere la tua pagina perché perché noi compariamo nel feed delle persone nella bacheca e quindi le persone interagiscono con il post ci sono pagine soprattutto anche chi fa affiliate ma anche io stesso ho lanciato campagne con pagine da 10 20 30 follower e ho raggiunto risultati economici molto molto importanti semplicemente perché le persone non tutti quasi nessuno va a vedere quanti like hai ok chiaro che nel lungo periodo fa a tutti piacere avere una pagina con tanti like chiaro che pompa il nostro ego può aiutare a livello di riprova sociale ma non è così importante come si pensa e soprattutto ritornando a quello che dicevi tu delle campagne like le campagne like sono il male il male assoluto perché soprattutto se le facciamo su pubblico freddo ok quindi su un pubblico che non si conosce facebook andrà a prendere delle persone molto spesso veramente fuori target e quindi già la nostra copertura organica è bassa quindi se noi abbiamo una pagina con mille fan e pubblichiamo un post lo vedranno sia noi in 200 300 se prendiamo anche dei fan fuori target è finita quindi ammassiamo la riccia organica mi è capitato di avere una pagina con 40.000 like di un mio cliente che pubblicava un post e non gli metteva like nessuno praticamente ma non perché fosse brutto il post è perché aveva fatto campagne di acquisizione like e aveva anche comprato proprio i pacchetti di like l'altro giorno guardavo su un sito vendevano i like a 10 euro tipo 500 100 like o una cosa di questo genere ecco quello è una cosa che vi sconsiglio assolutamente perché è veramente veramente penalizzante soprattutto per la copertura organica poi anche fatto il discorso tecnico che adesso non sto a fare sì Pasquale chiede se tipo le pubblicità sponsorizzate penso si riferisse prima ad utilizzare quando parlavamo che i social non sono gratuiti faccio una piccola premessa poi ti ripasso la palla diciamo che a livello strategico possiamo immaginare benissimo l'idea è di essere degli uomini che devono conquistare una donna e la vogliono sposare e il matrimonio raffigura la vendita quindi quello che noi dobbiamo fare è iniziare a dare dei contenuti interessanti per questa persona in modo che la persona si interessi a noi e lo facciamo tramite facebook facciamo un post può essere un video un link a un articolo un post proprio su facebook non importa nel momento che una persona interagisce con noi noi abbiamo la possibilità di ricontattare quindi di mostrare altri contenuti a quelle stesse persone che hanno già interagito con noi quindi per aumentare sempre di più questa relazione e questo è un ottimo modo per iniziare appunto a creare questo rapporto e Fede ti ripasso la palla in modo che continui sì sì no sposo assolutamente quello che stai dicendo infatti anche quando capita di fare lezione la mia il mio paragone è sempre quello dobbiamo cercare di tendere la mano ai nostri potenziali clienti delicatamente senza aggredire e piano piano portarli verso la nostra parte portarli verso quindi l'acquisto ma senza andare subito troppo diretti come dicevi anche tu giustamente Max leggevo nei commenti Marco Molteni che dice anche per Instagram lo sconsigli pacchetti follower intendo per Instagram e sì non solo Max se vuoi ecco il nostro gattino io l'attraversamento gatti sulla scrivania fuori piove quindi e allora sì riprendo quello che dici innanzitutto faccio una premessa per copertura organica Daniel chiede che cos'è è praticamente il numero di persone che vedono un nostro post senza che noi ci investiamo budget quindi se noi abbiamo una pagina con 100 like lo vedono 20 persone 30 persone quella è la copertura organica ed è molto bassa rispetto al numero di like che abbiamo delle persone che ci seguono dei nostri follower Milena mi scrive che non ha capito questo concetto quindi Milena se mi dai qualche dettaglio ti rispondiamo in maniera di preciso quale poi vedevo anche si chiede se acquistano like alla pagina facebook praticamente facebook permette tra le sue campagne quelle di fare delle campagne come obiettivo like appunto le persone vedranno una nostra pubblicità quando scorrono la bacheca con un bottone like quindi ti interessano le pillole di business ti faccio un esempio stupido ma il concetto è quello se sì clicca like le persone scorrono dicono boh cos'è questo ma sì clicchiamo like e cliccano like il problema è che se queste persone non sono effettivamente interessate a quello che noi abbiamo da offrire e facebook per ottimizzare il nostro budget mostra questo tipo di campagna alle persone che sono più propense a mettere like succede che la nostra pagina si riempie di follower di persone che non sono realmente interessate e quindi la nostra copertura organica scenderà sempre di più perché noi facciamo un post magari una persona lo vede non interagisce con il nostro post perché non gli interessa facebook vede che il post ha poca interazione e nel suo algoritmo interno dice questa pagina mette contenuti non interessanti quindi lo facciamo vedere di meno ora l'ho spiegato in maniera superficiale ma il concetto è proprio questo sì 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 assolutamente e Alessandro se non so se vuoi mettere la domanda in sovrimpressione Alessandro Meoni dice come incrementare i followers della nostra pagina allora rispondo a questa domanda visto che si collega quello di cui abbiamo parlato nell'ultima domanda il mio consiglio è quello di andare a invitare se vogliamo aumentare i like in maniera meccanica andiamo ad invitare le persone che hanno fatto messo un commento o messo un like ad un nostro post andiamo ad invitarle a mettere like alla nostra pagina e si può andare molto semplicemente manualmente sotto al post clicchi sui like e di fianco ti comparirà invita oppure c'è un'estensione di google chrome che si chiama invita facebook post likers mi sembra magari poi ve la scriviamo nei commenti e lui praticamente ti permette di fare questa azione in automatico ti invita lui in automatico le persone che hanno messo like o commentato un tuo post li invita a mettere like alla tua pagina in questo modo si riescono ad aumentare i fan della pagina in maniera un po' più intelligente perché perché se una persona ha messo like o ha commentato un tuo post probabilmente molto probabilmente sarà un po' più interessato sarà un po' più in target con quello che tu proponi con quello che tu dici ovviamente poi ci sono altre domande mi sa Max non so se tu c'è una domanda interessante di Dorella la vedi è un po' lunga da pubblicare quindi te la leggo praticamente Dorella deve aprire una pagina Facebook business e lavora in un'azienda di network marketing il suo dilemma è come intitola la pagina nel suo settore il nome azienda il suo nome o come possiamo parlarne giorni non ore dico la mia poi magari tu incrementi la dose no è perché anche ieri tra l'altro mi è capitato di parlare a telefono con un ragazzo che fa network marketing e mi ha chiesto se vale la pena sponsorizzarsi su Facebook secondo me allora partiamo da un presupposto che è Facebook la policy di Facebook limita fortemente la promozione di network marketing multilevel eccetera eccetera quindi partiamo da questo presupposto come possiamo fare però a sfruttare questo social così potente per ottenere risultati per il tuo business per il nostro business se facciamo network marketing il mio consiglio è di puntare molto sul personal brand quindi cercare di spingere molto sul tuo personal brand cercare chiaramente di parlare di dell'argomento centrale della tua azienda ad esempio se si vendono prodotti mi viene in mente solitamente si vendono prodotti nutraceutici o comunque integratori e si cerca di parlare di stile di vita di benessere di mostrare risultati che hai ottenuto grazie a quel tipo di prodotto bisogna girarci un po' intorno dipende sempre anche dal tipo di business però in qualche modo si può fare il mio consiglio è quello di aprire di puntare però sul tuo personal brand e cercare di anche qui focalizzarti su una nicchia specifica per poi andare a prendere il target e cercare di di vendergli o comunque far far comprare quello che poi devi devi vendere tu cosa dici allora questo è un problema a livello macro che ha delle conseguenze molto importante anche poi a livello micro più piccolo nel senso che allora se tu crei il tuo personal brand Dorella giusto tu crei il tuo personal brand cosa succede che saranno le persone che ti conoscono si fidano di te e quindi seguendo i tuoi consigli decidono di acquistare e quindi diciamo che tu diventi il fulcro che è il punto di riferimento il problema è che se tu in futuro ti stanchi e vuoi fare altro hai già sviluppato diciamo la tua immagine la tua figura come persona che vende questo network market e quindi diciamo che sei leggermente limitata al contrario se tu metti al primo posto il prodotto a quel punto il punto di riferimento della persona è il prodotto stesso quindi tu vendi un prodotto che spacca perfetto ma perché devo comprare da te se me lo propone un'altra persona un mio amico chissà chi altro io posso tranquillamente bypassare da te e comprare da altri perché tanto non ho nessun rapporto con te e quindi bisogna stare ben attenti se hai intenzione di farlo in maniera seria come lavoro e sfruttarlo veramente cioè nella tua testa è un'attività che vuoi far crescere negli anni assolutamente io lavorerei sul tuo personal brand e diventerei io stesso il punto di riferimento delle persone che mi seguono in modo che sia in futuro decidi di cambiare network per un miliardo di motivi e non importa quali siano tu dici guarda ho provato quest'altro network hanno prodotti che sono ancora migliori le persone si fidano di te compreranno immediatamente e tutte le persone che ti seguono tutta la tua downline ti seguirà senza nessun tipo di problema quindi ha un appeal molto molto più forte questa è la mia visione sì concordo 100% ok poi c'è una domanda tecnica di scusami di Francesco no di ah ok di Paolo ecco questo qui come posso anzi non come posso eliminare dei follower che penso non siano in target veramente io sinceramente credo di no si possono buttare via i follower dalla pagina Fede sì 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 penso proprio di sì non l'ho mai fatto ultimamente però assolutamente assolutamente direi di sì direi di sì tecnicamente sai come si fa? tecnicamente adesso non mi ricordo dove andare a guardarci però è un attimo comunque se lo cerchi lo trovi molto molto velocemente non mi era mai venuto non ho mai avuto il bisogno quindi non avevo mai approfondito l'argomento probabilmente nell'elenco dei like ci sarà un bottone per cacciare le persone soprattutto puoi bloccare o bannare le persone se ad esempio sono haters se ti disturbano se commentano in maniera troppo spesso negativa puoi bloccarli e bannarli molto semplicemente poi Claudio chiede ciao a tutti a proposito di questo parlava di invitare le persone a mettere like alla pagina ci sono alcune persone che non puoi invitare perché il pulsante invita si blocca cosa è dovuto spesso alle impostazioni della privacy che è la persona stessa sì e poi c'è anche un limite di persone che puoi invitare giornalmente infatti anche l'estensione di Chrome di cui parlavamo prima ti consiglia di farne un tot al giorno altrimenti poi Facebook rischia di di non fartelo più fare e quindi il consiglio è di non farlo di non farlo troppo di farne mi sembra una cinquantina al giorno e e non rischiare di andare oltre perché poi rischi il blocco proprio perché poi capisce che è un'automazione e sarebbe un po' troppo unfair come si dice sì allora ben si venga Luca in questi giorni sto cercando di capire come fare SEO questo è leggermente fuori target però comunque rispondiamo questo è il tuo però era il mio ma mi sembra alquanto complicato avete qualche consiglio per iniziare allora qui per SEO si intende posizionamento dei motori di ricerca e quindi immagino che tu stia parlando del tuo sito internet o del tuo blog la logica è fare una ricerca sulle parole chiave devi cercare degli strumenti come ad esempio il Google Keyword Research o qualcosa del genere o ci sono diversi strumenti che ti permettono di partendo dalla parola chiave estrapolare le ricerche correlate ad esempio cerco scarpe esempio stupido anche qui e lui mi dice che ci sono tantissime ricerche o meglio mi dice il numero con scarpe Nike oppure scarpe da corsa scarpe da passeggio e via dicendo in base a quello tu decidi qual è la parola chiave con cui ti vuoi posizionare oramai il mercato è talmente saturo che conviene lavorare sulle cosiddette chiavi long tail quindi non parole singole perché è impossibile posizionarsi nei primi posti con scarpe Nike ma piuttosto scarpe da corsa eventualmente marca a quel punto crei un articolo una pagina sul tuo blog che parla di quell'argomento specifico e in questo caso dovrebbe essere relativamente facile o semplice riuscire a finire tra i primi posti ci sono poi alcune alcune linee guida alcune veramente non so neanche dire elementi chiave da seguire tipo come utilizzare gli H1 i titoli nella pagina ma qui andiamo sul tecnico non è l'argomento adatto poi io sono oramai troppo obsoleto sulla SEO poi domanda questa fede te la faccio leggermente apro un altro gatto secondo me è molto interessante Max Instagram e Facebook non vorrei saltare perché può aiutare molti secondo me ma era dopo Ivan Matteo chiedo scusa Instagram e Facebook differenze di pubblico sono un personal trainer che vorrebbe puntare sulla categoria di magrimento dei 25 ai 55 le differenze di pubblico su Instagram e Facebook sicuramente ci sono e come dicevo anche in una live di ieri mi sembra la chiave penso sarà sempre di più andare a creare un ecosistema di tutti i social ok quindi cercare di pubblicare il contenuto giusto su Instagram che solitamente è un contenuto più breve facciamo un esempio pratico facciamo una storia breve per poi cercare di portare le persone su Facebook oppure magari su Facebook pubblico un contenuto di un video pubblico una parte di un video che è molto più lungo e invito le persone a terminare il video su YouTube ok la chiave sarà creare un ecosistema di social per cercare di circondare le persone prendendoli dal loro social prediletto andando sulla domanda in specifico per un personal trainer sicuramente secondo me entrambi i social sono importanti Instagram Facebook e ti aggiungo anche YouTube a livello di età la fascia 25 più è preponderante su Facebook la fascia sotto i 25 è preponderante su Instagram però non escluderei uno dei due social chiaramente magari se devo proprio scegliere partirei da Instagram ma anche Facebook è sicuramente determinante assolutamente determinante anche perché con la piattaforma di Facebook poi tu fai le sponsorizzate sia su Facebook che su Instagram quindi sicuramente sono sono importanti entrambe la differenza di pubblico sta nell'età sicuramente e anche nella fruizione dei contenuti su Instagram sono abituati ad un contenuto più smart più snello più veloce soprattutto più visual e su Facebook abbiamo la possibilità di se vogliamo intrattenerli di più e coinvolgerli in maniera diversa c'è un tipo di comunicazione diversa ma entrambi i social secondo me vanno sfruttati tu cosa dici Max? sono assolutamente da sfruttare tutti e due e dare tutti e tre anche YouTube perché YouTube oltretutto è utilizzato molto per guardare contenuti lunghi contenuti lunghi a livello che su Facebook nessuno se le guarderebbe anche video di 30-40 minuti su Facebook vanno poco su Instagram non si possono nemmeno caricare mentre su YouTube possono funzionare il problema in questo caso il problema o addirittura l'opportunità è che possiamo andare in maniera molto specifica a creare dei contenuti appositi il problema è che vanno creati più contenuti perché su Instagram servirà un tipo di contenuto su Facebook un altro e su YouTube un altro ancora poi se sei bravo per riuscire a partire ad esempio un video lungo su YouTube e strapolarlo per mettere uno un po' più breve di un certo tipo su Facebook e uno ancora più breve o con immagini o magari micro allenamenti video in table apps su Instagram allora fai un gran lavoro io personalmente inizierei da Facebook perché è più facile a mio avviso riuscire a coinvolgere la persona e a fargli arrivare tutto il contenuto che hai bisogno di mandare alla persona in modo che capisca cioè la mia paura di Instagram è che l'attenzione al sogno dell'attenzione è talmente breve che non hai tempo di far capire alla persona quello che davvero devi esprimere questo è il mio parere però qui Fede è più esperto quindi magari ho un'idea sbagliata poi del personal trainer no sì dipende da dipende da tantissime da tantissime cose il personal trainer per definizione adesso stanno spopolando su Instagram adesso tra l'altro ho un potenziale cliente che è un influencer su Instagram e si sta spostando anche su Facebook su YouTube eccetera eccetera e penso che Facebook e Instagram vadano sfruttati entrambi sinceramente e come diceva Max cercare di sfruttare i contenuti su tutte le piattaforme magari anche lo stesso contenuto cercare di estrapolare una parte per un social una parte per un'altra e su questo in Italia ad esempio Luca Mastella sta facendo un ottimo lavoro e in America Gary V è un altro punto di riferimento sui contenuti lui produce contenuti tonnellate di contenuti quindi se c'è qualcuno da cui prendere spunto lato produzione di contenuti sicuramente può essere può essere lui ok andiamo avanti e nel frattempo scriveteci se ci sentite e cliccate anche like alla diretta così siamo io e Fede siamo molto felici allora Massimo chiede la parte tecnica Massimo chiede ciao ragazzi l'estensione Chrome funziona solo quando si apre da Facebook Facebook dal PC sì deve essere acceso Facebook eccetera poi Daniel fa una domanda un po' lunga sponsorizza un post che invita le persone a fare un test gratuito in cambio di mail il test è inerente con il target a cui mi rivolgo ottimo l'utente atterra su una pagina dedicata del mio sito il giorno dopo l'utente riceve una mail che riepiloga perché era importante il test nella stessa mail parlo di un corso manca un po' del punteggiatura faccio fatica nella stessa mail parlo di un corso sempre relativo al test sul sito è in vendita a 69 euro e nella mail proprio perché hai fatto il test lo metto in promo a 19 euro è sbagliato parlare del corso già nella prima mail e poi la domanda è stata tagliata sì però questo sia quella è sbagliato parlare del corso nella prima mail e dipende in realtà lì dipende rispondo prima io poi passo la parola a Fede tendenzialmente ti direi di sì in realtà dipende quanto è forte lo stimolo che ha la persona nel risolvere il problema che tu gli stai andando a proporre appunto di risolvere quindi se una persona ha un problema talmente grave che non vede l'ora di trovare una soluzione allora potrebbe anche agire e acquistare immediatamente altrimenti la prima mail può essere effettivamente difficile in ogni caso sono i numeri che ti daranno la risposta quindi testi x alla prima mail x persone alla quinta mail e valuti quello che performa meglio Fede sì sì sono d'accordo sicuramente i test sono sempre quelli che ci danno la risposta definitiva molti utilizzano quella che si chiama auto quindi visto che tu devi comunque proporgli un prodotto nella prima mail e visto che il tasso di apertura della mail comunque sarà ipotizziamo anche un 40% essendo la prima mail vuol dire che ti perdi 60 persone su 100 per strada a questo punto ti consiglio di fare un'offerta già nella thank you page del questionario ok in questo modo tanto mandagliela nella prima mail o mandagliela o fagliela vedere subito nella thank you alla fine è lo stesso ma almeno se gliela fai vedere nella thank you hai l'opportunità di non perdere per strada almeno un 60% di traffico quindi se decidi per questa strategia tanto vale proporgliela già come auto quindi one time offer nella thank you page e poi eventualmente gli fai un follow up via mail per dirgli guarda che hai solamente altre tre ore per acquistarlo a 19 anziché 69 almeno non ti perdi il traffico per strada poi chiaramente devi fare tutti i test del caso io sono più per instaurare prima una relazione con il potenziale cliente perché poi se lui se tu sarei bravo ad instaurare una relazione con lui o con lei nel lungo periodo la tua strategia sarà molto più vincente e anche il suo quello che si chiama lifetime value quindi la possibilità che compri da te più spesso sarà maggiore sicuramente ok ottima osservazione oltretutto quella di proporre la auto subito nella pagina io l'avevo addirittura dato per scontato stupidamente visto che invece la mail parte un giorno dopo allora quali sono i consigli per impostare una campagna Facebook per uno studio professionale io sono architetto e rispetto ad un centro estetico negozio ristorante eccetera noi vendiamo servizi mi risulta un po' più complesso l'utilizzo di Facebook in maniera efficace rispetto ad un'attività che invece vende cose vado io o vai te Max? vado io? pari o dispari? vai vai te allora il problema qui del vendere cose sì vendere cose no è che noi dobbiamo partire da un presupposto una persona non ci conosce e pari entesi questo presupposto vale in qualunque tipo di business quindi una persona non ti conosce e il nostro scopo per prima cosa è fargli sapere che esistiamo e fargli sapere perché esistiamo passo successivo come grazie a noi la sua vita può migliorare ora nel tuo caso vendendo servizi come dici tu essendo un architetto a mio avviso per il tuo lavoro a persone che hanno un lavoro simile è quello di cercare di portare il prima possibile alle persone a un incontro dal vivo perché questo abbassa in maniera incredibile le barriere di diffidenza che hanno le persone quindi puoi fargli una sorta di preconsulenza dal vivo e poi la vendita la intavoli subito dopo lo fanno tantissimo ad esempio i fisioterapisti e i messaggiatori che ti fanno un controllo gratuito ad esempio il controllo posturale eccetera quindi una persona vede la tua pubblicità decide di approfittare di questa chiamiamola offerta viene nel tuo studio lo incontri e nel momento che lo incontri già hai fatto il 90% del lavoro Fede ti passo la palla poi eventualmente continuo tolgo la domanda che ti copre tutto sì no sì sicuramente in realtà la differenza non è così tanta tra il vendere cose o il vendere servizi o il vendere cioè l'importante e lo so che sono ripetitivo ma è sempre costruire questa cavolo di famosa relazione con le persone e la relazione la costruisci tramite contenuti o contenuti di valore quindi studio professionale architetto diamo dei consigli utili alle persone in merito al tuo lavoro dei consigli che potrebbero aiutare a risolvere dei problemi a queste persone mostriamo i lavori che hai fatto mostra i lavori che hai fatto e le foto insieme ai clienti relativamente al lavoro mostra le testimonianze dei tuoi clienti fai una comunicazione anche laterale ok cioè la chiave è cercare di ragionare a 360 gradi non solamente devo vendere il servizio ma devo prima posizionarmi come esperto instaurare una relazione mostrare che comunque ci sono altre persone che comprano da me e e poi saranno le persone ad avvicinarsi e a chiederti di lavorare con te perché tu gli avrai mostrato i tuoi lavori e a loro saranno piaciuti magari e avrai mostrato le recensioni e quindi avrai fatto leva sulla famosa riprova sociale e tutti questi piccoli tasselli poi contribuiranno ad aumentare la potenza del tuo brand e a portarti clienti poi dopo strategicamente tecnicamente giustamente come diceva Max è perfetto e altra cosa che dato per scontato di nuovo ma ne abbiamo parlato proprio all'inizio quando ti ho chiesto i tre elementi fondamentali cioè tutto quello che noi andiamo a fare nei social in ogni caso deve sempre avere lo scopo di costruire la nostra autorità la nostra autorevolezza nei confronti delle persone che ci seguono quindi tutti i contenuti che noi andiamo a creare devono essere rivolti alle persone che ci seguono per fargli pensare cavolo ma sai che lui è proprio in gamba se dovesse scegliere un architetto a questo punto vado da lui che è quello che ripeto più bravo quello che mi ha dato qualche informazione più utile e via dicendo quindi qualunque cosa noi andiamo a fare indipendentemente dal business dobbiamo sempre sviluppare il nostro brand che sia o un brand di qualcosa o un personal brand quindi assolutamente sì Pasquale questa domanda per te Fede ritenete importante fare periodicamente delle dirette? Eh beh Pasquale sicuramente le dirette hanno una copertura veramente impressionante non so se avete notato ma in questo periodo tutti fanno dirette perché giustamente hanno una copertura molto importante uno hanno la possibilità di interagire in maniera più empatica se vuoi con il tuo pubblico e quindi ancora una volta ritorniamo al discorso della relazione ehm sono più reali semplicemente e Facebook le premia molto e quindi sì assolutamente sì chiaramente molte persone molti imprenditori hanno difficoltà a stare in video ed è una paura diciamo tra virgolette legittima non c'è nessun problema quindi eh vi consiglio prima di andare in diretta magari di fare un po' di test se non vi sentite confidenti con con la cosa però sicuramente se avete cose interessanti da dire se avete qualcosa eh a cui rispondere come in questo caso stiamo facendo una sessione di domande e risposte una chiacchierata in amicizia sicuramente sì fare dirette è molto importante e riguardo al sentirsi diciamo a proprio agio io dopo 600 video ancora comunque ogni volta che mi metto davanti alla telecamera fatico un po' quindi non sarà una cosa che ci si toglie o almeno personalmente dall'oggi al domani nonostante tanta pratica comunque la logica è sempre la stessa le dirette sono contenuti che servono per sviluppare sempre più la relazione con i nostri potenziali clienti o con le persone che ci seguono quindi è uno strumento valido assolutamente sì è più impegnativo che fare un video assolutamente sì quindi bisogna valutare dove vogliamo investire le nostre risorse Fede Linkedin Marco chiede sto provando a pubblicare e consultare contenuti su questo social più professionale e mi sembra che sia un canale molto più valido per proporre il proprio valore allora Linkedin sicuramente è un canale che ha una copertura organica molto molto importante io lo sto testando ultimamente e con dei buoni risultati tra l'altro chiaramente dipende dipende dal tuo settore dipende dal tuo obiettivo dipende da tante cose se sei un libro professionista e vuoi costruire il tuo personal brand Linkedin sicuramente è un canale da prendere in considerazione anche questo va studiato bene perché comunque ci sono tante persone che dicono sì Linkedin è molto potente poi pubblicano il post senza una strategia senza niente e siamo ancora una volta appunto a capo ci vuole una strategia bisogna conoscere il social bisogna sapere cosa fare però a livello di portata organica Linkedin sicuramente con Linkedin puoi fare dei numeri interessanti non escluderei mai comunque almeno di prendere in considerazione anche gli altri social perché solo Linkedin a meno che tu non sia in un settore specifico oppure cerchi di ottenere clienti per fare consulenze e quindi ok possiamo puntarsi tanto però ad esempio se andiamo a fare advertising su Linkedin hai una spesa veramente elevata con risultati molto spesso diciamo altalenanti almeno per i test che ho fatto io come piattaforma pubblicitaria sicuramente Facebook è dieci volte ancora più più avanti rispetto a Linkedin e poi dobbiamo sempre tenere a mente il target a cui ci rivolgiamo perché Linkedin principalmente ci sono professionisti quindi non sempre è proprio il canale adatto perché i nostri potenziali clienti non sono lì se ad esempio io fossi un personal trainer si puoi sicuramente sfruttare Linkedin ma non è Linkedin il canale che ti porterà più clienti assolutamente esatto quindi da tenere in considerazione anche questo ci saluta Givan grande Givan grande Givan la vita che non ti sento poi Paolo qual è la piattaforma che si adatta meglio ad un negozio o a un bar che ha come pubblico la città o la provincia in cui ha la sede beh Paolo sicuramente ancora una volta dipende dal target quindi se hai un pubblico molto molto giovane ti direi magari più Instagram ma comunque la copiata Facebook e Instagram non sbagli mai soprattutto per attività local ho avuto tantissimi clienti ho tantissimi clienti con attività local chiaramente in questo periodo magari dopo Max non so se vogliamo parlare anche un attimo del tipo di comunicazione da fare in questo periodo così di emergenza e particolare potrebbe essere interessante se interessa anche a chi ci sta ascoltando però attività local bar ristoranti Facebook Instagram tutta la vita sì oltretutto cioè proprio per il fatto che tutti utilizzano Facebook e Instagram più o meno indistintamente in base alla fascia di età e essere presenti in entrambi i canali è molto importante e si possono ottenere per questa attività locale dei risultati veramente veramente importanti l'importante è saperli utilizzare uno e saper comunicare in maniera giusta quindi riuscire a spiegare a far capire ai clienti perché dovrebbero venire nel nostro bar o nel nostro ristorante rispetto che andare dai nostri concorrenti ma se si lavora bene si possono ottenere risultati veramente eccezionali assolutamente assolutamente sì assolutamente sì Raffaele un professionista su Facebook punta solo sul personal branding secondo voi quale può essere il giusto compromesso tra Facebook e LinkedIn queste credo che siano due domande separate però ma un professionista su Facebook punta solo sul personal branding anche qui dipende sicuramente se sei un professionista il personal branding è importante poi come dicevo anche questa mattina al telefono con con Max tra l'altro perché c'era arrivata una domanda via mail su puntiamo sul nostro personal branding o spingiamo più l'attività aziendale come nome dell'azienda per intenderci veramente abbiamo risposto prima in diretta a questa domanda non stamattina ma va bene abbiamo risposto prima a questa domanda non mi ricordavo e quindi la risposta è puntare sul personal branding sicuramente ti permette di accelerare la crescita puntare sul discorso più aziendale con il nome aziendale magari è un po' più freddo e meno empatico però in un secondo momento in seconda battuta se vorrai fare l'imprenditore quindi staccarti da dall'attività sarai molto più agevolato perché far crescere il personal branding sicuramente è è una cosa interessante è una cosa che fa crescere velocemente il business ma ti lega talmente tanto alla tua figura che poi sarà difficile in un secondo momento delegare tutta l'attività a qualcun altro e in modo tale che poi tu eventualmente potrai dedicarti ad altri business e ad altre attività allora io qui invece la vedo un pochino più positiva come situazione non così negativa come quella di Fed nel senso che inizialmente noi sviluppiamo il nostro personal brand nel momento stesso in cui stiamo lavorando su questo dobbiamo iniziare anche a creare degli asset nostri unici ad esempio la cosa più famosa si vedono il metodo Martinini ora non esiste però la dieta del dottor Mozzi cioè ci sono la dieta Dukan ci sono in qualunque settore i professionisti che lavorano molto sul proprio personal brand creano anche il loro metodo e cosa succede? il nostro metodo che andiamo a creare innanzitutto serve a rinforzo del nostro personal brand e il metodo stesso può essere delegato quindi io assolutamente lavorerei per costruire il tuo personal brand e nel frattempo inizierei a costruire degli asset che vanno a potenziare te stesso e che poi successivamente puoi iniziare a sfruttarli proprio per la delega quindi assolutamente sì però la risposta è la stessa che ha detto Fede alla fine quindi sì personal brand ti velocizza molto l'avviamento e poi cerchi di cavalcarlo nel miglior modo possibile ok abbiamo un'altra domanda Lorenzo buongiorno ho un'azienda che produce sedie molto personalizzate in genere per hotel e ristoranti ma vogliamo proporci anche al privato perché siamo in grado di fare anche piccole produzioni in tempi rapidi avete qualche consiglio su come partire iniziate o inizio io beh allora il discorso è questo perché quindi do una domanda che taglia subito la testa al toro perché un privato dovrebbe decidere di comprare le sedie da te finché non trovi una risposta a questa domanda è inutile che ti metti in questo mercato detto in maniera brutta e cattiva perché le fai veloce quindi ho bisogno di una sedia velocemente me le fai personalizzate ti faccio un disegno io perché sono un artista e le fai esattamente come voglio io cioè qual è la motivazione per cui io come privato dovrei venire a comprare le sedie da te rispetto a che andare dalla cartel o a mondo convenienza quindi due concorrenti completamente opposti però effettivamente loro mi danno una motivazione beh qualcuno spendo poco sono già pronto e altri vogliono un prodotto super bello di design Fede? Sì sicuramente come dicevamo prima il perché è importante il perché scegliere te è importante e il consiglio è se già comunque il tuo business è un B2B e funziona andrei a separare i due brand cioè andrei a tenere il brand del B2B assodato funziona lo spingiamo e magari lo incrementi anche tramite il marketing Facebook LinkedIn quello che vuoi e poi andrei a creare un brand un sotto brand diciamo per il privato in modo tale da non da non mischiare le due cose anche nella mente dei tuoi clienti trovare il tuo elemento differenziante verticalizzarti su quello e cercare di andare magari prima fare una ricerca di mercato analizzare i competitor analizzare se c'è domanda e poi andare a proporti in maniera verticale su una certa nicchia con il tuo posizionamento bello preciso che secondo me non deve mischiarsi con quello del del B2B penso che abbiamo risposto sì allora c'è una domanda Roberta chiede un link tutorial completo e non troppo lungo per produrre contenuti Instagram è qualcosa da poter suggerire è una domanda un po' un po' vaga se ne sono un link tutorial ci sono diversi corsi che comunque sono insomma abbastanza famosi in Italia su Instagram i corsi di di marketers però dipende molto da quello che vuoi fare su YouTube ce ne sono 40 milioni di tutorial per produrre per produrre contenuti Instagram bisogna trovare secondo me anche il proprio stile oltre alla nicchia anche il proprio stile per differenziarsi da tutti gli altri ok ciao Nicola ci saluta Nicola a Bruxelles e Doc grazie Stefano ci fai complimenti allora Milena chiede richiede però tempi lunghi soprattutto per chi sta iniziando adesso a proporsi online a cosa ti riferisci Michela perché se tu parli della costruzione del proprio personal brand in realtà il mio punto di vista è che è molto più veloce di quello che si pensi nel momento che creiamo una relazione lo possiamo fare abbastanza velocemente trovare prima i clienti anche una cosa che si fa abbastanza velocemente qui non tutti sono d'accordo con me per carità però per mia esperienza è questa Fede per Facebook è meglio un profilo personale o una pagina? Io su Instagram lavoro con un personal brand Allora in linea generale ti direi pagina anche se ultimamente molti americani stanno portando anche in Italia il concetto di sfruttare il profilo personale per fare business soprattutto se si è consulenti perché chiaramente ha una reach molto più potente rispetto alla pagina Qual è il limite però del profilo personale? Non puoi fare advertising quindi secondo me è la motivazione per la quale andrei sicuramente sulla pagina e io su Instagram lavoro con un personal brand sì pagina aziendale su Instagram pagina aziendale su Facebook me la giocarei così Assolutamente sì Allora fin qui è tutto chiaro fateci sapere se sì e poi Fede passo alle domande che invece ho ricevuto via mail Ce ne sono ancora più ancora qui nei commenti mi sa No commenti io penso di averle messe tutte C'era Roberta che chiedeva come si creano post coinvolgenti e vabbè comunque Roberta qui abbiamo una risposta abbastanza abbastanza ampia e lunga post coinvolgenti partiamo sempre da lì tra l'altro sul mio LinkedIn trovi una guida gratuita in PDF su come creare copy per i post e sono 42 pagine quindi lì trovi già un bel po' di contenuti se vuoi se devo sintetizzare perché comunque si potrebbe fare un'ora di diretta solo su questo ricordati sempre che devi capire perfettamente a chi stai parlando quindi chi è il tuo target come si comporta quali sono le sue paure quali sono le sue abitudini perché perché per coinvolgere il tuo target indubbiamente lo devi conoscere non c'è non c'è alternativa e quindi parte tutto da lì quanto conosci bene il tuo target quanto conosci bene il tuo cliente a quel punto una volta che lo conosci si va sulla parte un po' più tecnica su Facebook su Instagram la parte visual quindi la scelta dell'immagine la scelta del video sono assolutamente importantissimi perché sono quelli che fanno decidere ad una persona se farti fermare quando scrolli la bacheca oppure no quindi creare dei visual che catturino l'attenzione è il primo passo e subito a ruota per importanza c'è il copy quindi saper scrivere un copy efficace sono i tre step secondo me fondamentali se devo chiaramente riassumere in 30 secondi giusto Max? sì per copy si intende testo per chi non lo sapesse quindi scrivere un testo che sia molto adatto a convertire quindi a spingere un utente a fare quello che vuoi in questo caso semplicemente a farci leggere e riguardo al visual aggiungo un piccolo dettaglio se voi guardate il mondo dei videogiochi è uno dei modelli da studiare che sono sempre veramente un paio d'anni avanti rispetto a tutto il resto ci sono alcuni videogiochi su facebook voi scrollate la pagina non so se vi è capitato a me capitano fisso forse perché ovviamente essendo anche nel business dei videogiochi sono in target ci sono delle pubblicità dove si vede ad esempio il libero e il goblin sono tipo degli schemi da risolvere oppure come comunque robe così e il gioco non ha nulla a che fare con quel tipo di pubblicità quindi per farvi capire quanto è importante riuscire a catturare l'attenzione dell'utente per poi farlo passare all'azione e questo addirittura secondo me a questi livelli è quasi sbagliato in teoria perché io mi aspetto un gioco vedendo la pubblicità poi quando lo scarico è tutt'altro evidentemente questi spendono milioni in pubblicità hanno fatto i loro calcoli e vedono che nonostante quello gli conviene quindi davvero il visual non deve essere quindi l'immagine che utilizziamo comunque quello che cattura l'attenzione non deve essere necessariamente legato a quello che facciamo noi ma serve esclusivamente per catturare l'attenzione e farlo fermare nel momento che scrolla la bacheca questo è importante perché non tutti riescono ad entrare in quest'ottica ma vogliono per forza mettere qualcosa di inerente attinente ma non è necessario sì qui andiamo qui Max andiamo contro anni di testi che ci dicono metti immagini coerenti con quello che poi vendi con la landing page eccetera eccetera ce ne assumiamo la responsabilità però se voi guardate anche ad esempio il ritorno sul mercato americano perché sono quelli avanti tre o quattro anni rispetto a noi con una saturazione veramente elevata e quindi quello a cui arriveremo anche noi è lì ad esempio l'altro giorno ho visto un video di un battitore di baseball che colpiva la pallina e la pallina boom arrivava nello schermo come se ti colpisse in faccia l'ho visto impressionante se tu scrollavi per forza ti fermavi a guardare perché l'avrai passata assolutamente però loro vendono consulenze di marketing c'entra niente col baseball no? perché? perché tu puoi scrivere il copy che vuoi quindi il testo migliore del mondo puoi avere il prodotto migliore del mondo puoi avere l'ending page migliore del mondo il prezzo migliore del mondo ma se loro non si fermano sulla tua inserzione sei a zero è come se tu non avessi fatto niente quindi sicuramente è importante in ogni caso i test vincono sempre su tutto quindi fate un test con un'immagine attinente fate un test con un'immagine che spacca la bacheca e vedete quello che performa meglio tutta la vita allora Fede Andrea buongiorno entrambi la mia domanda è legata a come gestireste un'attività Facebook e Instagram con un franchising di decisioni di negozi in tutto il territorio nazionale come organizzereste gli admin quali contenuti come devono essere dei rapporti tra pagine madre e pagine franchisor franchisor ora lascio rispondere prima a te Fede poi parlo anche della mia esperienza che seguo sono direttore marketing di un franchising quindi spiego come facciamo noi e perché sì io seguo anch'io delle pagine che sono in franchising e questa secondo me è una domanda molto molto delicata e complessa per come la vedo io perché sicuramente da una parte le attività devono avere tutte lo stesso tono di voce la stessa insomma anche graficamente devono eguagliare devono essere un po' abbastanza simili chiaramente ad esempio nel caso in cui nel mio caso ho un paio di clienti che hanno franchising ma ogni franchisor poi gestisce ogni no si chiamano franchisi quelli che acquistano franchisi gli affiliati gli affiliati utilizza poi crea un sacco di confusione quindi il top sarebbe avere una pagina madre le pagine sotto quindi pagine figlie di tutte le varie zone e una per un team di persone che gestisca la comunicazione in maniera molto simile su tutte le pagine a mio avviso se non si può avere cercare di dare delle linee guida molto ferre e delle procedure molto ferre a tutte le persone che poi dovranno gestire i social poi qui Max è un pro perché appunto direttore marketing quindi sicuramente Max tu sai rispondere ancora meglio secondo me bisogna innanzitutto fare distinzione da quello che si vende nel senso che se noi fossimo la Nike deve essere uguale ovunque non è neanche minimalmente pensabile che ogni negozio deve differenziarsi con della personalità propria diciamo così se siamo dei ristoranti ad esempio una catena di ristoranti come nel mio caso in quel caso interviene il fattore umano perché quando noi andiamo in un ristorante rispetto a un altro ci troviamo delle persone quindi pubblicare foto dello staff far vedere che lavoriamo far vedere le foto del locale che sarà molto simile ma non è necessariamente una fotocopia ecco in quel caso sì in quel caso lascerei come facciamo noi la possibilità ai francesi agli affiliati di pubblicare anche le loro foto mentre lavorano hanno delle linee guida da seguire in modo che non è che dicano tutt'altro comunque hanno ovviamente delle regole in modo che la comunicazione sia molto uniforme e poi c'è invece un tipo di comunicazione di catene che viene pubblicata in tutte le pagine dall'admin diciamo da chi ha gestione di tutto questo è più o meno tra l'altro vi confesso che ad esempio per un cliente che seguo del quale seguo due città ho chiesto di far togliere la pubblicazione dalla pagina madre automatica perché andava a sporcare troppo la comunicazione la rendeva talmente impersonale e fredda che veramente no molto meglio creare contenuti un po' più su misura per ogni tipo di 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 località in questo caso in modo tale che poi riesci ad entrare più in empatia con le persone poi la linea comunicativa invece quella secondo me deve essere più o meno uguale per tutti ovvio che se sei Nike non c'è o comunque un grande brand o un brand di lusso non ci sono storia tutto preciso tutto per filo per segno sì e in questo caso nel tuo esempio però forse c'era un problema di tipo di comunicazione usata dalla pagina madre si era così personale sì siamo andati contro il capo in quel caso però i risultati per fortuna sono dalla nostra quindi finché abbiamo i risultati dalla nostra ok allora Matteo ciao ho un'azienda che si occupa di consulenza progettazione e realizzazione interventi di risparmio ed efficienza energetica come mi consigliate di muovermi per ottenere più visibilità dai professionisti che potrebbero diventare nostri clienti questa ottima strategia ti dico Matteo professionisti che potrebbero diventare nostri clienti perché io penso che Matteo praticamente stia puntando a un tipo di clienti che gli permette di lavorare uno a molti nel senso io trovo un architetto che fa un'impresa edile che costruisce tante case il cliente la detedile che a sua volta mi trova n clienti questo è un ottimo modo per moltiplicare il proprio business quindi questa è un'ottima strategia sì 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 ma allora sicuramente l'advertising ti può dare una mano sotto questo punto di vista chiaramente devi capire bene anche qui che tipo di professionista vuoi intercettare secondo me l'analisi del target prima di tutto ancora una volta non è detto che comunque andando a fare advertising sui privati poi non vai ad intercettare anche i professionisti ma qui è un lavoro strategico a monte DPR e secondo me dovresti utilizzare anche delle vie alternative per andare ad intercettare i professionisti magari anche con delle comunicazioni mirate delle sales letter Poi tu Max sicuramente avrai altro da aggiungere di interessante rispetto a questa strategia No in questo caso se tu sai dove sono i tuoi professionisti quindi sai effettivamente apri l'elenco telefonico cerchi architetto hai l'indirizzo di tutti poi cerchi non so imprese edile hai l'indirizzo di tutti in quel caso io mi muoverei in maniera offline proprio per raggiungerli tutti quindi andrei inizierei via posta proprio manderei una mail di presentazione in cui ti presenti spieghi gli dici che vorresti collaborare con loro e cerchi di fissare un incontro per andare poi a parlarci uno a uno in questo caso un incontro è necessario a mio avviso perché devi definire alcune cose se loro ti fanno da tramite perché praticamente ti diventano dei venditori quindi devi riuscire a creare una relazione win-win dove tu hai un vantaggio ovviamente loro ti portano i clienti ma anche loro devono avere un vantaggio altrimenti difficilmente ti prendono in considerazione in ogni caso come dice Federico continuiamo a utilizzare anche Facebook anche i social perché comunque le persone che hanno delle aziende anche loro vanno sui social e quindi possono comunque incappare nei tuoi contenuti quindi assolutamente online continua a farlo e sposta un pochino di attenzione anche sull'offline questo assolutamente spero di averti risposto di aver capito esattamente quello che avevi chiesto c'è Giovanni Max che fa una domanda interessante secondo me che ci apre le porte anche ad un argomento interessante passaparola questa qui no Giovanni Co su azienda di infissi non ha la foto profilo ragazzi mi perdo qualche domanda perché ci sono un sacco di commenti sì 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 ci sono un sacco penso sia interessante perché lui dice appunto per un'azienda di produzione vendita infissi a privati a livello locale consigliate Facebook o Google Ads e qui ci apre le porte per un argomento che è domanda consapevole o domanda latente quindi è appena arrivato Diego che saluta ciao Diego e lui vende infissi ah fantastico allora inizia pure Fede sì no dicevo la differenza tra Facebook e Google Ads è abbastanza netta nel momento in cui parliamo di domanda consapevole e domanda latente che cosa significa se io ho un problema e sono consapevole di averlo faccio una ricerca consapevole e molto spesso utilizzerò Google quindi Google Ads vince nel senso che mi si rompe lo scarico devo cercare un idraulico cerco su Google idraulico Rimini quindi agisco su una domanda consapevole con Facebook andiamo ad agire invece su una domanda latente per andare a rispondere di preciso sul discorso vendita infissi io penso che e questo vale secondo me nella stragrande maggioranza dei casi l'unione Facebook più Google sia vincente perché comunque sia sicuramente chi cerca un infisso probabilmente lo cerca in maniera diretta ma poi Facebook ti può aiutare tantissimo a svolgere quello che si chiama attività di remarketing quindi ad inseguire il tuo cliente anche su Facebook una volta che ad esempio lui cerca infissi Rimini ipotizziamo che tu sia di Rimini o forse non so di dove sei va sul tuo sito va sulla tua landing page tu riesci a tracciarlo grazie al famoso pixel e lui quando torna su Facebook vedrà le tue inserzioni che lo inseguono in modo tale da essere sempre nella sua mente e convincerlo a contattarti nel caso in cui lui non l'avesse già fatto questo è un po' quello che vi capita anche quando cercate su booking una vacanza un volo un hotel o su Amazon un prodotto e poi ve lo trovate ovunque nella vostra vita questo è il remarketing ed è la potenza del remarketing perché ci permette di rimanere sempre nella testa del lettore del nostro potenziale cliente e sarà sempre più importante proprio perché difficilmente una persona al primo contatto con voi deciderà di scegliervi e aggiungo aggiungo oltretutto tu vendendo un prodotto quasi indifferenziato devi riuscire a trovare una leva da sfruttare per convincere il cliente a scegliere te rispetto a che andare ai tuoi concorrenti come questo ovviamente dipende dal tipo di infissi che hai li produci tu quindi fai qualcosa di particolare puoi concentrati sull'assistenza puoi garantire che qualunque problema entro 24 ore vai a risolverlo ad esempio puoi devi comunque per forza trovare un qualcosa che ti differenzi perché se agli occhi del potenziario del cliente sei uguale ad altri in quel caso la scelta ricadrà quasi sempre sul prezzo più basso per cui questa è una cosa che assolutamente devi tenere a mente invece per rispondere sempre alla tua domanda Facebook o Google Ads ha già risposto Fede aggiungo solo una postilla quando lavoriamo con Google è importante avere dei contenuti scritti in maniera non eccellente di più nel senso che se io sto cercando un qualcosa di mirato sto cercando infissi a Rimini benissimo non devo finire sul tuo sito dove ti presenti i miei racconti del più del meno ma devi lavorare con quelle che si chiamano landing page quindi creare dei contenuti scritti in un certo modo che vadano a togliere qualunque tipo di dubbio nella testa del cliente perché trovi esattamente le risposte che lui stava cercando questo è assolutamente essenziale altrimenti spendi soldi in traffico le persone finiscono nell'altra pagina dicono ma qui non si capisce niente va via e vado un altro concorrente e quindi è importantissimo questo assolutamente fra tempo saluto Giovalmi Belicchi che è un mio amico penso sia lui se non è un omonimo che dice passaparola ancora fondamentale nel nostro campo si è lui che è che è lavora un po' nel mondo degli architetti mi sembra spero di non sbagliare tra l'altro anche oltreoceano e sì sicuramente il passaparola è determinante in tutte le attività è importante anche incentivarlo il passaparola con le giuste tecniche le giuste strategie e creare delle appunto strategie che vadano a 360 gradi per quanto possibile però passaparola è importantissimo nella pillola credo che esca stasera parlo proprio di questo sull'acquisizione clienti a passaparola e vado breve tanto ne parlo nella pillola di stasera appunto il punto è questo se tu hai un passaparola che funzioni in maniera forte vuol dire che stai lavorando incredibilmente bene con i tuoi clienti quindi il tuo prodotto è ottimo e su quello devi esserne molto fiero se però lavori solo sul passaparola senza stimolarlo non hai nessun tipo di controllo sulla tua attività perché sei di punto in bianco le persone smettono di parlare di te o per qualunque altro motivo questo passaparola su cui non ha il controllo smette di funzionare la tua azienda si ferma quindi hai comunque bisogno di avere un sistema di acquisizione clienti in ogni caso assolutamente sì Giovanni è sempre infissi sì come? nel campo degli infissi lavora anche Giovanni il passaparola anche lì ti aiuta molto puoi raccogliere le testimonianze ne parliamo dopo delle testimonianze non apro la parentesi adesso allora Laura ciao Massimo la catena che segue il sushi corner sì il lavoro che state facendo soprattutto in questo periodo è fantastico complimenti grazie praticamente in questo periodo stiamo sto cercando di convincere è partito tutto da un punto venti che ha deciso di fare una serata in cui ha devoluto tutte le entrate all'ospedale di Senigallia e un paio di giorni dopo ha fatto invece una una praticamente una consegna gratuita di pasti agli infermieri e ai medici che lavoravano in corsia quindi ha portato del cibo gratis è stata una cosa fantastica e adesso ieri sera è stato riproposto anche da Bellaria questa sera le vendite che fa stasera anche queste saranno devolute all'ospedale di Rimini la cosa da considerare in questo caso è una lezione di marketing molto importante pericolosa brutta e cinica però è così questo tipo di azione è partita da Senigallia perché era una cosa che lui ci teneva a fare a livello di marketing ha avuto un impatto a dir poco impressionante ne hanno parlato sui giornali ne hanno parlato sui siti internet centinaia di commenti centinaia di condivisioni è diventato quasi l'idolo di Senigallia ora lo enfatizzo ma quasi è diventato una cosa del genere e lui l'ha fatto perché ci credeva se questa azione fosse stata fatta in maniera puramente a scopo di lucro questa azione avrebbe funzionato lo stesso quindi quando noi decidiamo di fare marketing dovremmo sempre tenere a mente quali sono le conseguenze di quello che andremo a fare sia in ambito positivo come in questo caso perché anche se lo fai a scopo di marketing comunque hai aiutato effettivamente la comunità ma ci sono alcune volte che le azioni vengono fatte senza considerare le conseguenze negative che una certa azione ha e in questo caso ci si ritorgono contro in maniera molto molto forte una cosa che ad esempio io odio è vedere un prodotto che fino ad oggi è stato venduto a X e il giorno dopo viene venduto a X diviso 2 quindi e l'ho visto fare anche da professionisti molto in voga vendeva il suo corso a 500 euro la settimana di Natale veniva venduto a 97 euro e dico caspita io che l'ho comprato due giorni fa sono un coglione mi hai truffato e questi sono errori che le persone se ne accorgono e sono clienti che andate a perdere per sempre perché veramente si sentono truffati quindi quando facciamo un qualunque tipo di azione di marketing che sia promozione a fin di bene uno sconto eccetera cerchiamo di considerare quali sono le conseguenze nel lungo periodo perlomeno perché le persone soprattutto gli imprenditori per cercare di fare il cassetto subito lo sottovalutano ma è molto 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 pericoloso quindi teniamolo ben a mente chiusa per il suo sì determinante scusate allora ve la butto lì Elisa una diretta futura su Google Ads qui dobbiamo chiamare Enrica Bels che se non sbaglio Fede la intervistate voi marketing marines sì sarà in diretta con me mercoledì prossimo sul gruppo di marketing marines per chi si vuole iscrivere è un gruppo gratuito poi vabbè adesso non sto a fare la marchetta però poi vedrete che cos'è è un gruppo dove parliamo di marketing e ci sarà Enrica Bels che parlerà di Google Ads mercoledì prossimo su dopo magari ve lo lasciamo nei commenti non ti sei capito Fede c'è Rino Leo sopra Elisa c'è un commento di Rino Leo che non deve passare inosservato grande Rino che bello vedere cercate marketing marines vi iscrivete al gruppo è gratuito c'è Federico Andrea e il loro terzo soso Francesco che è esperto di brand in cui danno consigli e suggerimenti agli imprenditori e avranno appunto la diretta con Enrica sulle Facebook Ads sto cercando le altre domande Ivan nuovi metodi di acquisizione clienti mailing list landing page webinar funnel cosa consigliate per partire con poco budget vai tu mai poi dopo io non riesco a rispondere in maniera veloce allora do un input poi dopo ma in realtà effettivamente c'è una domanda che è difficile alla quale è difficile rispondere perché è veramente vaga cioè dipende da tantissime cose è complesso dire poi tra l'altro nuovi metodi di acquisizione clienti mailing list è veramente come dire formaggio pane ma argomento un po' vago mailing list landing page webinar questo ecco però possiamo dire una cosa secondo me max è un errore che in tanti commettono cioè quello che dicevo all'inizio della diretta facebook è uno strumento per raggiungere l'obiettivo la mailing list è un asset addirittura non è neanche tanto lo strumento perché lo strumento può mandare la mail e la landing page è un altro strumento per raggiungere l'obiettivo sono il webinar idem l'invito mio è quello di ragionare in maniera più ampia e capire che questi sono strumenti per raggiungere un obiettivo che devono molto spesso poi lavorare insieme cioè la landing page mi serve per acquisire la mail magari la mail la mailing list è un asset che mi serve per mandare delle mail e ottenere magari nuovi clienti il webinar può servirmi per catturare nuove mail oppure posso sfruttarlo per scaldare la mia mailing list e poi vendergli dei prodotti il funnel è un mix di cose cioè sono parole parliamo di parole in realtà non possiamo parlare di metodi di acquisizione dei clienti allora ti rifaccio la domanda di Ivan metodi di acquisizione dei clienti cosa mi consigliate di fare per partire anche con poco budget perché il succo poi era questo adesso parto le parole per quello che mi viene da sorridere perché è difficilissimo rispondere sicuramente facebook ad allora io ti direi che cosa facebook ad obiettivo messenger basta se devi partire con poco budget non devi comprare nessun tipo di strumento devi solo investire in facebook e porti la persona a conversare con te su facebook in modo che installi un rapporto magari ti fai lasciare il numero di telefono e ci fai una chiacchierata se dovessi poi dipende anche uno che cosa intende per poco budget perché ci sono persone che per poco budget intendono 100 euro al giorno ci sono persone che per poco budget intendono un euro al giorno quindi dipende da tante cose sappiate che comunque con troppo poco budget è veramente limitante fare business o comunque fare advertising e lo sarà sempre di più sì allora Francesco perché stanno aperti i ristoranti i ristoranti possono lavorare in delivery mantenendo la distanza di sicurezza del personale mascherine guanti eccetera possono comunque fare le consegne a domicilio Riccardo chiede ma un sito dedicato come start up che non è ben chiaro cosa significa ha valore minore in confronto a facebook e instagram o va in coppia penso che lui intenda ho una start up e ho un sito internet dedicato ah ok ha valore cioè è importante avere un sito internet dedicato o va in coppia con facebook e instagram dico due cose io poi ti passo la palla allora il sito internet come diceva Federico prima è uno strumento anche se è uno strumento talmente potente se lo strutturiamo bene che a mio avviso diventa un asset proprio perché ti diventa uno strumento talmente forte che ti può portare tra un affico sul tuo sito e quindi contatti di potenziali clienti e per rispondere in breve va in coppia a questi altri strumenti sì assolutamente va in coppia sì concordo non è che ha valore minore o cioè dipende tutto da dalla parte strategica facebook instagram sito ma allora se parliamo poi tra l'altro con francesco astolfi che è il mio socio di marketing marines lui ti direbbe il sito è morto e quindi che non ti serve neanche il sito e in parte ha ragione se vogliamo parlare parliamo più magari di landing page quindi una pagina di atterraggio dove come diceva max prima perché perché il sito nella concezione insomma imprenditoriale generale è chi sono cosa faccio dove mi trovo è molto generico ok una vetrina e lì magari spendi 5000 euro per una roba che non ti serve a niente è molto importante creare una pagina di atterraggio dove tu in maniera molto molto specifica dici chi sei perché devono scegliere te anziché un altro perché è importante tutte le testimonianze che magari hai raccolto e un form di contatto dove ti possono contattare eventualmente un blog ok quindi sito internet dedicato se deve essere un sito vetrina il classico sito magari degli hotel dove dicono in bellissima posizione a pochi metri dal mare è comodo caldo è affettuoso lo dicono tutti non sei diverso dagli altri quindi non ti dico che è inutile ma quasi sì io per sito internet comunque intendo sempre una parte blog nel senso che viene sempre aggiornato viene praticamente tutti i contenuti che voi postate sui social ad esempio o video che possono essere replicarli anche sul vostro blog perché vi possono portare traffico o una persona che in qualche modo finisce nel vostro sito può avere accesso a quei contenuti che effettivamente lo aiutano allora Samuel per un autoriparatore il meccanico come incentivare il passaparola cosa suggerisci per creare l'effetto wow beh Max allora qui ti racconto un paio di esperienze che ho avuto che sono veramente stupide ma fanno capire a volte come alcuni piccoli dettagli fanno veramente la differenza un meccanico che ti consegnava la macchina lavata fine tutto quello solo questa semplice cosa ha fatto sì che queste due persone diverse mi raccontassero l'esperienza che avessero avuto anche me me l'ha raccontata sempre macchina lavata quindi ci rendiamo conto a volte che sono veramente alcune piccolezze tu porti la macchina ti aspetti che il meccanico ci lavora se ha le mani sporche ti lascia magari il volante sporco un po' tutto in disordine gliela hai portato infangata la macchina ancora infangata invece semplicemente pulirgliela dagli era bella lucida che quasi sembra una macchina nuova in alcuni casi quando viene portata in maniera che è quasi irriconoscibile fa davvero l'effetto wow ed è veramente una sciocchezza come altre cose io più che effetto wow mi concentrerei eventualmente sul servizio ad esempio andare a prendere tu la macchina a casa della persona e gli togli veramente uno sbattimento esagerato perché devo venire dal meccanico devo lasciarti la macchina devo avere qualcuno che mi riporta dietro praticamente perdo un'ora devo chiedere aiuto ad un'altra persona ed è una cosa molto scomoda quindi potresti ragionare anche su incentrare l'autocomunicazione su un servizio che altri non offrono che però aiuta effettivamente il cliente e non è necessariamente un io lavoro meglio sono il meccanico più bravo semplicemente mi chiami te lo vengo a prendere in ufficio alla sera te la riporto o comunque gliela tieni i giorni che devi tenere però gli semplifichi questo passaggio ad esempio sì concordo assolutamente anche a me è capitato di ricevere delle segnalazioni di un meccanico che aveva lavato la macchina dopo averla messa a posto e già incentivi il passaparola ma questo in generale varia un po' per tutti i business tu Samuel hai detto una parola importante due parole effetto wow e fa veramente la differenza soprattutto quando si vendono commodities come diceva anche Max prima se tu hai un prodotto abbastanza uguale ai tuoi competitors te la devi giocare molto sull'effetto wow sul sul valore che puoi dare alle persone anche tramite l'erogazione del servizio e ad esempio io avevo un cliente in Sicilia che innanzitutto prendeva macchine solamente di un certo tipo quindi di alto livello come si può dire e visto che erano macchine di un certo tipo lui aveva le telecamere puntate sulla macchina durante la riparazione in modo tale che volendo l'utente poteva collegarsi da casa e visualizzare quello che il meccanico stava facendo sulla sua amata macchina in quel momento lì e poi faceva la foto di tutti i pezzi questo in realtà dovrebbero farlo tutti ma a me mi è capitato una volta quindi ti faccio vedere il pezzo che ti ho cambiato o comunque ti faccio vedere la foto del pezzo prima dopo tutti i piccoli dettagli che però contribuiscono a fare affezionare le persone questo qui oltretutto questo dettaglio che fai la foto fai vedere il prodotto il pezzo che vai sostituire prima o dopo vai a veramente lavorare sulla leva della paura che le persone sono terrorizzate come si vedono alcune volte anche a striscia la notizia chiami la persona che hai la serratura rotta ti dicono l'ho cambiata in realtà magari hanno tolto il sasso da sotto la porta quindi vai a lavorare sulla paura di essere fregati e le persone che hanno questa paura preferiranno venire da te per questa semplice cosa che a te costa due foto ci metti tre secondi rispetto a andare da qualcun altro che magari costa un pochino meno quindi lo puoi anche sfruttare per farti pagare di più assolutamente sui dettagli che fanno la differenza esatto allora viaggio io Fede direi che rispondiamo a queste ultime due domande qui nella chat poi rispondiamo quelle che abbiamo in sospeso cercando di andare veloci se no finiamo dopo domani eventualmente ne faremo un'altra da in senso tutto questa risposta allora viaggio vorrei creare un personal branding quale potrebbe essere il primo passo viaggio che cosa fai eh sì dipende molto da quello comunque contenuti di valore posizionarti come esperto in una determinata nicchia molto verticale cercare di restringere il focus il più possibile e veicolare contenuti al tuo target che tu avrai analizzato bene ormai avete capito che punto tanto sull'analisi del target contenuti che ti posizionano come esperto e allo stesso tempo ti permettono di installare una relazione con il tuo pubblico detta in tre secondi aggiungo tre secondi pure io anche in questo caso quello che dobbiamo fare è creare dei contenuti che fanno capire al cliente come grazie a noi la loro vita può migliorare e più siamo stretti di focus come diceva Fede più siamo il nostro la nostra tipologia di pubblico è piccola più saremo efficaci esempio stupidissimo sono un personal trainer specializzato nel fare snellire i glutei delle donne cioè tu pensi cavolo alla fine il mio target è piccolissimo sì però il tuo target le persone che vogliono snellire i glutei il 99% vengono da te proprio perché tu fai solo quello e quindi sei percepito come la soluzione migliore al loro problema esatto allora questa è un po' lunga ci copriamo tutti ciao Massimo e Federico sono un giovane professionista nel campo dei servizi legali avvocato ho analizzato in questi mesi come i colleghi concorrenti promuovono la loro attività attraverso i social fatte alcune eccezioni dove è evidente un investimento alla base e una capacità di attirare like commenti attraverso un numero impressionante di post nell'arco della stessa giornata non riesco a capire quali contenuti si debbano promuovere per diversificarsi come professionista non ci sta più vado a finire di leggere qua come professionista e attirare il commento è nascosto più clienti possibile ok allora rispondi che io cerco la domanda per intero ma in realtà è la stessa identica risposta che abbiamo dato a Biagio e chiaramente adesso bisogna vedere in che settore se si può dire settore tu sei specializzato se non lo sei il mio consiglio è di iniziare anche qui a restringere il focus lo so che è difficile lo so che dici ma tanto ma poi mi taglio fuori tante altre persone come faccio con tutte le altre persone ma torniamo a quello che dicevamo all'inizio parlare a tutti equivale a parlare a nessuno e come diceva Max se tu sei specializzato in una cosa molto molto specifica non potranno fare altro che venire da te e comunque sia di avvocati che comunicano ce ne sono di avvocati che comunicano bene in maniera molto semplice cioè una cosa importante è secondo me comunicare in maniera molto molto semplice soprattutto termini cioè soprattutto in ambiti molto tecnici se un avvocato mi viene a parlare di legge 87 decreto legislativo cose io già non ho capito niente perché per l'avvocato è scontato no è quasi un linguaggio naturale ma questo è un problema di tutti non solo dell'avvocato anche io prima ho detto copi chiaramente alcuni di voi magari non sanno cose copi e giustamente Max ha spiegato che cos'è parlare in maniera molto chiara semplice empatica per un avvocato secondo me può essere un qualcosa in più ancora più degli altri ok e poi sempre verticalizzarsi su un aspetto su un settore su un argomento specifico e posizionarti come esperto tramite i contenuti poi dopo di strategia ce ne possono essere altre mille più specifiche ti finisco di leggere la domanda come era non riesco a capire quali contenuti si debbano promuovere per diversificarsi come professionisti ed attirare i clienti la pubblicazione di articoli di interesse giuridico nota sentenza o commento alla normativa o una simulazione o una simulata risoluzione di casi non mi pare sia sufficiente lo fanno tutti e nel peggiore dei casi addirittura si limitano a caricare articoli pubblicati dai principali siti di informazione giuridica cosa mi consigliate ha risposto perfettamente Fede e il punto è proprio questo cioè quello che dobbiamo fare noi è andare a utilizzare un linguaggio talmente chiaro che chi ha un determinato problema e si trova in questa situazione nel momento vi è mai capitato di andare appunto a parlare con un notaio un commercialista un veterinario a me è successo anche con un veterinario utilizzano dei linguaggi che iniziano a parlare dopo 5 minuti voi non avete capito niente e l'unica cosa che avete ricepito è mi sento un pirla perché non avete capito questo è esattamente quello che voi non dovete fare nell'ambito marketing e molti professionisti un po' per deformazione professionale perché sono proprio abituati a parlare così due perché pensano che utilizzando questi grandi nomi questi termini la persona dimostra un'autorità il problema è che succede il contrario le persone si allontanano le persone vogliono una comunicazione semplice e vogliono capire quindi devi semplificare al massimo tutto quello che è semplificabile hai questo problema benissimo te lo spiego veramente utilizziamo la regola di Brian Tracy la comunicazione che utilizziamo deve essere comprensibile al punto che un bambino di 6 anni deve essere capace dopo averti sentito di rispiegarlo a un altro bambino di 6 anni questo è il livello di difficoltà che dobbiamo utilizzare sì assolutamente sì poi Fed budget minimo questo rispondiamo che ce l'avevano fatto anche in privato si può quantificare il budget minimo consigliato per advertising su Facebook e Google Ads parlando di un'attività di vendita di prodotti B2C nella fattispecie sedute e il budget per la stessa attività marketing B2B rivolto a hotel e ristoranti tenendo separati i due business questo è sempre Marco delle sedie credo quello di prima ah ok ma allora budget minimo su Facebook anche qui dipende se hai un'attività local quello che consiglio io almeno un 10 euro al giorno minimo minimo se andiamo sul territorio nazionale il budget di partenza deve essere un po' più alto a mio avviso poi dipende molto dagli obiettivi da quanto ti vale un cliente cioè se io faccio un cliente e mi vale 1000 euro e hai a disposizione budget di marketing possiamo già partire e dovrai spingere di più perché sarà molto più difficile acquisire un cliente e quindi sai che un cliente ti costerà di più va fatto un'analisi per ogni caso specifico se ti devo dare delle cifre indicative per Facebook sul local almeno 10 euro al giorno sul nazionale di più di più più di 10 euro al giorno per Google Ads non ti so dare una risposta precisa meglio che chiediamo magari ad Enrica mercoledì prossimo tu Max hai altro non ho altro da aggiungere in questo caso effettivamente lui non penso che lavori local perché penso che lavori in tutta Italia essendo business forse nel B2C è local a quel punto lo scopo qual è portare le persone all'interno del tuo negozio per farti vedere sì più o meno le cifre sono quelle io i miei clienti di solito do un minimo di 5 euro al giorno perché con meno di 5 euro al giorno veramente raggiungiamo troppo poche persone non riusciamo ad attuare strategie come? anche 5 euro secondo me nel lungo periodo è veramente poco cioè si può iniziare ad ottenere qualche risultatino ma perché quello che dobbiamo entrare nell'ottica noi da imprenditori è questo tutti i soldi che noi investiamo su Facebook o comunque nei canali social servono per generare altri soldi se questo non succede abbiamo qualche problema quindi noi prima di fare questo dobbiamo andare a studiare quindi io spendo 100 euro 1000 euro in un mese su Facebook benissimo che fine hanno fatto questi soldi? cosa hanno fatto? hanno portato 100.000 interazioni vabbè quindi mi hanno portato 20 contatti di questi contatti quanti si sono trasformati in clienti? 1 ok quanto mi ha fatto guadagnare questo? 500 euro allora ci ho rimesso altri 500 euro sì perfetto cosa puoi migliorare? cercare di da 1000 a 20 possiamo cercare di aumentare questo numero oppure di quei 20 solo uno si è trasformato in contratto si può migliorare questo numero quindi cercare di spezzare tutti i passaggi in tanti passaggi più piccoli analizzarli uno per uno e cercare di migliorare le performance di ognuno di questi anche perché adesso non sto a spiegarlo però in sequenza migliorare il 10% di un passaggio 10% dell'altro passaggio 10% dell'altro passaggio non aumentiamo di un 30% ma è esponenziale quindi la nostra crescita diventa veramente forte questo è un errore che in tanti commettono non analizzare poi rientro dall'investimento che è quello il succo di tutto Allora amministratore di condomini cosa consigliate? Sinceramente non conosco assolutamente cioè so che cos'è amministratore di condomini ma non so bene non saprei cosa consigliarti sinceramente penso che sia molto PR offline più che online in questo caso penso io qui farei un ragionamento nel senso fai una piccola analisi dei tuoi concorrenti dal punto di vista dei loro condomini quindi se tu esistono di preconcetti ad esempio un amministratore condominale che conosco non conosco personalmente però ho sentito parlare tutti dicono che è un truffatore che quando porta i preventivi eccetera vuole scegliere quello che ha in mente lui perché ha fatto tutti i magheggi e via dicendo quindi viene visto come un disonesto questo potrebbe essere semplicemente un angolo da utilizzare sei stanco di avere un amministratore adesso ho detto così magari ti denuncia pure però il concetto è quello sei stanco di avere un amministratore disonesto che ti porta i preventivi che fanno vantaggio a lui invece che cercare di migliorare il bene comune di tutto il condominio ecco se vuoi una persona che mette davanti ai propri interessi il benessere di tutti i condomini allora io faccio la cosa tua per questo motivo questo motivo questo motivo lavoro così lavoro così lavoro così se è interessato chiamami detto in maniera molto veloce e grezza però diciamo che può essere un approccio per iniziare a studiare qualcosa scusa Max mi è venuto in mente tra l'altro per l'avvocato di prima tu potresti essere il semplificatore cioè proprio potresti quasi posizionarti come colù come l'avvocato che ti parla in maniera semplice e ti fa realmente finalmente capire che cosa significano tutti quei paroloni e ti spiega cose difficilissime in maniera iper semplificata quello potrebbe essere te la butto lì un posizionamento ok allora nelle domande che ci hanno mandato i via mail in realtà abbiamo già risposto facendo le altre domande ne rimangono solo due la prima è di Ivan che chiede la mia domanda è questa nel 2020 Facebook non è ormai stato superato da Instagram per copertura e visibilità allora questa è una domanda ricorrente in realtà se noi guardiamo i dati Facebook ha 31 milioni di utenti attivi Instagram ne ha 19 e Facebook è tuttora la terza piattaforma più utilizzata dopo Whatsapp e Youtube con l'81% di persone che la utilizza e Instagram mi sembra il 55 adesso non vorrei dire sbagliato ma intorno a quella cifra lì quindi ancora una volta guardando i dati no a livello di utenti presenti no dipende sempre dal target dipende dal target che tu devi andare a colpire dipende dalla tua strategia ma comunque Facebook fidatevi ha un potenziale ancora clamoroso clamoroso non so Max se tu vuoi portare l'esempio un esempio di vero non c'è bisogno guarda è più che sufficiente e poi come dicevo prima secondo me Facebook ha un tasso di interazione nei contenuti che è un pochino più profondo rispetto a Instagram su Instagram catturiamo l'attenzione per in maniera molto superficiale se vogliamo utilizzare un termine invece su Facebook riesce ad andare in maniera un pochino più approfondita e se vogliamo creare una relazione abbiamo bisogno di entrare in profondità con i clienti per cui assolutamente assolutamente sì ultima in realtà penultima domanda come ottenere recensioni o meglio quando chiederle e che tipo di domande porre per ottenere una recensione estilata con un certo ordine logico grazie e complimenti bellissima domanda questa me l'hanno fatta identica anche ieri e penso sia fondamentale per tutti 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 i business ti dico la mia e poi Max se vuoi aggiungi pure ma allora innanzitutto quando chiederla quando chiederle recensione nel momento di soddisfazione più elevato del tuo cliente quindi quando consegni un lavoro finito quando il tuo cliente grazie a te ha raggiunto un risultato per il quale è veramente molto felice bam quello sicuramente è il momento in cui andare a chiedere la recensione chiaramente è abbastanza non è semplice andare a chiedere una recensione però devi pensare a quanto è importante per te e quali risultati incredibili può portarti andare a chiedergli una testimonianza e un'altra cosa importante facendo riferimento anche alla tua domanda è come strutturare la recensione e qui la risposta è andare a creare la la storia dell'eroe come si dice la storia dell'eroe ovvero avevo un problema ho cercato di risolverlo in tanti modi fino a che non ho trovato nome azienda o nome personal brand grazie alla quale risultato ok quindi problema iniziale perché questo perché poi le altre persone si immedesimano nel tuo cliente no potenzialmente tutte le persone ti faccio l'esempio classico del dimagrimento no avevo provato decine di diete ero ero veramente sfiduciata pensavo che ormai nulla potesse aiutarmi perché ogni volta poi riprendevo peso ero arrabbiata con il mondo avevo provato gli integratori i beveroni la palestra gli elettrostimolatori quindi bam si immedesima nella classica persona che vuole dimagrire e uno dice ah cavolo anch'io finalmente poi ho conosciuto Max che è riuscito con il suo metodo unico a farmi dimagrire risultato 10 chili in non so quanto in 6 mesi ma soprattutto perché qui poi dopo vai anche a sfruttare un'altra leva non ho più ripreso peso ok quindi la recensione deve essere strutturata indicativamente in questo modo qui direi che hai già detto tutto aggiungo due cose solo veloce nel mio corso business fire up c'è una lezione proprio sulle testimonianze e c'è il corso bonus che si chiama la tecnica dell'incantatore di serpenti vittima che parla proprio di questo addirittura ti faccio l'esempio della perdita di peso vai su facebook cerchi prodotti dimagranti vai a leggere i commenti delle persone che hanno utilizzato quei prodotti e leggi esattamente queste cose qui tu leggi ah io non ero riuscito con nessuno oppure mangio questo prodotto e finalmente non sento più la fame quindi sono le persone stesse che ti spiegano ti esternano i loro problemi che avevano e come non le hanno più avuto le hanno risolti grazie a un determinato prodotto ed esattamente quello che dovresti fare con i tuoi clienti quindi com'era la vita prima perché non erano riusciti a sistemarlo e come la loro vita è migliorata grazie al vostro prodotto ho detto me ne regrezzano della spiegata egregiamente fede allora le ultime due domande questa è bella fede francesco una domanda più personale la differenza tra voi due quale sarebbe cioè chi fa marketing non lavora anche con facebook allora qui parlavamo prima di verticalizzazione fede incredibilmente verticale su facebook io al contrario sono discretamente verticale su facebook per carità però sono molto più orizzontale sul processo dalla fase iniziale creazione della strategia creazione del brand alla fase di vendita quindi lavoro più sul modello di business ovviamente sono competenze che in qualche modo anche federico altrimenti non riuscirebbe a fare il suo è come per dire un cuoco un pizzaiolo cioè bene o male entrambi probabilmente sanno fare le stesse cose però come fa la pizza il pizzaiolo non la fa il cuoco e viceversa detto in maniera un po' dai il modello si chiama per fare i fighi con i nomi il modello t-shape quindi a t cioè tu hai delle competenze orizzontali e poi ti verticalizzi su una singola competenza chiaramente max è un fenomeno nella parte strategica modello di business proprio in tre secondi lui ti dà una risposta io magari ho delle competenze perché comunque a livello strategico poi è fondamentale saperne per utilizzare anche facebook io sono più verticale sull'advertising diciamo facebook instagram però entrambi abbiamo competenze l'uno dell'altro anche perché riuscire a avere delle competenze sviluppate come federico se non è una cosa che fai tutti i giorni non riesci ad averle perché facebook si aggiorna ad una velocità tale magari due anni fa probabilmente io e i feder eravamo simili come utilizzazione di facebook perché io lavoravo molto su facebook poi l'ho un pochino abbandonato per concentrarmi sulla parte strategica ma ogni mese facebook fa aggiornamenti nuove feature nuove test fa alcuni cambi e non riesci proprio a stareci dietro quindi è il mio punto poi io ho una motivazione per cui ho fatto questa scelta il mio punto di vista è che l'imprenditore deve sapere quello che sta facendo avere una visione di insieme di tutto il business e quindi sapere come gli strumenti funzionano poi non necessariamente deve essere lui che fa il disegno infatti il mio nuovo corso si chiama business architect e l'idea è proprio questa l'imprenditore fa il disegno e l'architetto però non è lui che costruisce il muro che fa l'impianto idraulico chiama l'elettricista per l'impianto idraulico per l'impianto elettrico l'idraulico per l'impianto idraulico il muratore perché ti faccia le mure l'imbianchino che ti vernice e via dicendo quindi Federico è l'elettricista tutta sta roba è sull'elettricista no ti sarebbe fare anche il disegno ma vabbè è veramente tardi ho una consulenza tra 13 minuti anch'io perfetto lei si ricorda della barra dell'elettra ancora noi non facciamo in tempo mi dispiace allora dov'è che Lorenzo no c'è Lorenzo che mi aveva mandato la mail via mail allora la leggo direttamente io ho bisogno di creare valore e nuove strategie o un nuovo modello di business per il mio settore produzione abiti da sposa e sposo come puoi aiutarmi grazie questo è tosta prego vai 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 pure se vuoi iniziare allora partiamo dal problema che stanno affrontando le persone e io credo che magari mi sbaglio è una visione distorta mia della realtà l'uomo ha un modo di vedere matrimonio la donna un altro per la donna il matrimonio quel giorno è il più importante della sua vita non vuole sbagliare nulla per l'uomo o buona parte degli uomini invece semplicemente vogliono avere meno stress possibile meno noie possibili perché già sono abbastanza stressati eccetera e non hanno tutta l'attenzione che ci mette la donna per questo giorno quindi servono due comunicazioni diverse innanzitutto per uomo e donna e poi bisogna sfruttare le leve giuste in ogni caso per la donna la paura che ha la donna è quella di non scegliere l'abito perfetto di non apparire bella e che qualcosa possa andare storto quindi come puoi aiutarla per fare in modo che tutto vada liscio tu sicuramente puoi togliergli tutti i dubbi sull'abito da sposa quindi lo vieni a provare sei mesi prima bene però se perdi due chili se metti su due chili due mesi prima o il giorno prima come facciamo hai delle risposte da dare insomma dovresti lavorare su queste paure e andare a risolverle lato donna lato uomo fai lo stesso sul ragionamento scusa sto andando veloce perché se no non facciamo il tempo a finire e invece lato modello di business come puoi creare delle collaborazioni delle joint venture con persone che lavorano sempre nell'ambito dei matrimoni ad esempio puoi creare delle collaborazioni con fotografi quindi persone che lavoreranno insieme a te per quel giorno con cui puoi passarti clienti stimolare via vicenda una persona viene da te per cercare l'abito della sposa guarda poi se hai bisogno di un fotografo ne conoscono bravissimo e gli lasci il biglietto di quel fotografo stessa cosa fra il fotografo con te con insomma il catering tutte le persone che in qualche modo sono coinvolte in quel giorno passo la palla ma penso che hai dato dei consigli veramente veramente preziosi la mia provocazione ma è giusto una provocazione perché non fai due brand differenti uno solo per abiti da sposa e ti verticalizzi su quello e uno per abiti da sposo e chiudo perché se no parte la la discussione in questo caso risolvi il problema di comunicazione perché con un brand parlerai in un modo con l'altro brand parlerai in un altro esatto c'era un'ultima domanda venditore di tessuti questa qua venditore di tessuti per la casa tende su misura cosa consigliate potrebbe essere una nicchia specifica dovrei restringere il campo secondo me dipende molto da io non conosco bene il settore dipende molto dai competitor cioè perché qui è una cosa che vale un po' per tutti la verticalizzazione dipende da quanto è saturo il mercato nel senso se un venditore di tessuti per la casa tende su misura ad esempio su misura però penso che lo facciano tutti è una cosa che è già differenziante può andare bene altra cosa i tuoi competitor comunicano perché ci sono dei settori che non comunicano e già il fatto di comunicare e fare marketing è un elemento differenziante quindi vanno valutate un po' un po' di cose io non non conoscendo benissimo il settore i competitor mi sento di darti questo consiglio più che dirti se è abbastanza specifica o no tu Mac io cosa aggiungo ma niente anche lì il problema è che a mio avviso lavori poco sulla domanda inconsapevole perché non c'è tanta domanda le persone non cambiano le tende di casa così presto puoi lavorare su misura sulle tende su misura quella è una domanda consapevole su cui puoi lavorare quindi dovresti fare un'analisi per vedere davvero se ci sono dei competitor tende su misura se io faccio una ricerca su Google ad esempio appaiono di prodotti sponsorizzati una marea quindi sì ci sono competitor probabilmente dovresti restringerli mi dava 5 annunci sponsorizzati tutto pieno quindi ci sono e ovviamente puoi farlo tende su misura nella tua città però tra i competitor c'è Ikea quindi loro ti coprono qualunque cosa basta di grossissimo solo quello l'Eroa Merlin viene primo quindi diciamo che vai a competere con dei colossi quindi la domanda è la solita perché un cliente dovrebbe venire da te iniziare a fare marketing su quello e cercare di lavorare sulle cose che loro non possono dare un Ikea non ti viene ti fa la tenda su misura Ikea sì no e soprattutto chi è il tuo target se vendi tessuti è la casalinga che compra qualcosa o e B2B è un po' troppo generica la domanda mi dispiace Marco non riesco a risponderti avrei bisogno di qualche informazione in più l'ultimo per le recensioni per i prodotti dimagranti va bene eh ma perché tutti non vado ad arrivare mi dispiace per non rispondere allora per i prodotti dimagranti va bene la storia dell'eroe ma per gadget cosa consigliate? gadget beh allora sicuramente lei dice no lui dice tipo festa del papà festa della mamma eccetera ma il problema è a monte secondo me è il fatto che comunque a meno che tu non abbia dei gadget veramente fighi veramente diversi e non sei diverso dagli altri quindi ti manca la parte differenziante e vai a combattere sul prezzo che è sempre la scelta peggiore di tutte diversamente comunque la recensione sul tipo di servizio sul tipo di prodotto parlare della qualità di prodotto non è mai il massimo ma in questo caso può qui lo dico qui lo nego può essere una cosa da far dire tra virgolette chiaramente se lo pensano a chi ha comprato i tuoi prodotti ma il mio consiglio è di cercare di differenziarti il più possibile e cercare di vendere gadget un po' diversi da quelli canonici sì perché il problema se tu vendi prodotti che hanno anche altri hai già perso in partenza o quasi esempio stupidissimo che però rende perfettamente l'idea è il giorno della festa del papà o della festa della mamma e io non ho comprato il prodotto se tu mi dici se lo ordini entro le due io entro le sette e te lo porto a casa ecco che già ti sei differenziato talmente tanto che io compro subito perché arrivo in una situazione di scarsità perché non ho più tempo eccetera lo pagherei anche il doppio il problema è che probabilmente non è un servizio che riesci a dare per cui se sei uguale ad amazon uguale a altri negozi eccetera difficilmente le recensioni sono sufficienti per convincere la persona all'acquisto quindi deve avere dei prodotti unici lo vedo così perché fede ogni tanto spesso facebook chiude gli account perché fai spiega tu perché facebook ha delle policy veramente restrittive perché molto spesso ultimamente facebook si sbaglia e quindi banna gli account per errore basta fare ric basta tra virgolette basta devi perdere tempo per fare ricorso scrivere all'assistenza in chat se non hai la chat via mail e sperare che te lo sblocchino bisogna leggere molto attentamente le policy e adesso non abbiamo tempo di approfondire però gira tutto attorno a quello mi tocca scappare max perché io veramente ho una consulenza tra 5 minuti perfetto anche io allora Francesco dice che i suoi sono personalizzabili quello può essere sicuramente un punto di forza quindi i gadget personalizzabili se la risposta è sì tu glieli fai e quindi gli vai incontro anche qui avrai dei concorrenti quindi devi valutare in che modo riesci a differenziarti il tipo di servizio che offri sei più veloce sei più economico gli aeroporti direttamente a casa puoi fare anche personalizzazione su volume piccoli devi trovare la tua la tua differenziazione e utilizzarla va bene ragazzi è stato un piacere avervi qui con voi per ben quasi due ore siamo ancora in 68 un botto grandi grandi siate tutti soddisfatti scriveteci sì siete stati grandi proprio così se vi è piaciuto se avete altre domande se avete qualche andiamo la prossima volta raccontiamo anche la brazzelletta dai me la preparo giusto dobbiamo prepararsi la brazzelletta grazie grazie Max di avermi ospitato a te Federico ciao ragazzi grazie ancora a tutti ciao 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 grazie a tutti